Crediamo come Movimento 5 Stelle e io personalmente che un paese civile debba avere una legge anticorruzione che impedisca la commissione tra interessi poco trasparenti per il benessere della collettività. Rendere sicuramente trasparente l'uso del denaro pubblico, questo mi sembra importantissimo, rendere anche trasparente la nomina delle cariche politiche a ogni livello e ovviamente la legge anticorruzione come proposto da questa campagna.